Un imprenditore, Giuseppe Caterisano, di 67 anni, è stato ucciso in un agguato ieri pomeriggio a Capo Rizzuto, nei pressi del Lungomare, in località Capobianco. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri e dalla squadra mobile di Crotone, una persona non identificata ha bussato la porta di casa di Caterisano, che viveva solo, e quando l'imprenditore si è affacciato gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola, uccidendola all'istante. L'imprenditore è stato attinto da almeno 4 o 5 colpi d'arma ed è stato ritrovato intorno alle 16, riverso a terra, davanti alla propria abitazione. Riguardo al movente dell'omicidio, al momento non si esclude alcune ipotesi. Caterisano, nell'aprile del 2013, era stato arrestato con l'accusa di detenzione d'arma clandestina con matricola punzonata, una pistola 765, detenzione illegale di stupefacenti nel corso della perquisizione venne ritrovato in possesso di circa 250 grammi di cocaina nascosti in un vaso. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile e i carabinieri di Crotone e della tenenza locale. Le indagini sull'omicidio Caterisano proseguono con l'attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Isola di Caporissuto. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia agli ordini del capitano Francesco Esposito insieme al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Crotone. I militari nello specifico stanno intagando a 360 gradi sul fatto, non escludendo al momento alcune ipotesi. Sull'asfalto, accanto al corpo di Giuseppe Caterisano, sono stati trovati almeno quattro bossoli calibro 9. Sul luogo anche il magistrato di turno Andrea Corvino che ha assistito all'ispezione cadaverica inseguita dal medico legale che ha accertato che almeno tre dei colpi esplossi hanno raggiunto la vittima al capo. Intanto questa mattina i carabinieri hanno portato in caserma il nipote dell'uomo, figlio del fratello, ancora minorenne, al momento ascoltato dagli uomini dell'arma che attendono le determinazioni della procura dei minori per decidere se procedere al fermo del ragazzo per l'ipotesi di omicidio. Da quanto appreso da fonti investigative, il movente sarebbe da ricondurre a dei dissidi familiari.